E' in programma domenica 17 maggio 2015 alle ore 16 presso la sala consigliare del comune di Rieti un'assemblea pubblica dal titolo Peschiera, Le Capore, Bene Comune, Acea, SPA, Male Comune, Soluzioni Politiche e o Contenziosi. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini, alle associazioni e alle istituzioni. L'obiettivo è quello di trovare soluzioni politiche, anche ragionando sui contenziosi in atto in merito all'annosa e mai risolta questione acqua. Sono 20 anni che dalle sorgenti Peschiera e Le Capore vengono prelevati, senza concessione, 500 milioni di metri cubi d'acqua all'anno da parte di Acea, una multinazionale quotata in borsa che fa profitti milionari grazie a questa risorsa, senza nemmeno garantire il fabbisogno idropotabile a costi sostenibili per i comuni della provincia di Rieti, i quali sono costretti a lunghissimi contenziosi amministrativi per difendere il diritto all'acqua per i propri cittadini. Nonostante ciò, da 15 anni la Regione Lazio consente che l'utilizzazione abusiva prosegua, in contrasto con il diritto comunitario e le leggi nazionali, senza perseguire gli obiettivi di qualità imposti dalla normativa e senza garantire i ristori economici ai comuni.